Eccoci in diretta qui da Deville, il torneo è in pausa, mancherà poi l'ultimo livello di giornata all'ottavo, vediamo i giocatori che escono, Luana, per Italia direi una giornata abbastanza buona, sono sacchi ancora gli azzurri in gioco, sui dodici partiti manca un livello, solamente un livello, speriamo di portarli tutti e sette che raggiungeranno i sette di ieri. Per avere un dei due, un po' di italiani in gioco, vedete piano piano stanno scelto tutti, li stiamo inquadrando, la sala è ancora piena, sono 300 i giocatori ancora che si stanno sfidando, qui fa un caldo incredibile dentro nella sala, soprattutto dove siamo la stampa, con tutti i giocatori che sfidano, sentite parlare in tutte le lingue, il francese, l'inglese, il tedesco, il mitogiano. Naturalmente sono francesi, su 700 se non sbaglio, 450 erano i giocatori di casa, naturalmente cercheranno di aggiudicarsi queste effigioni. Nel 2010, tra i prodotti italiani, stanno uscendo insieme al giocatore.